Una perfetta lente di ingrandimento per guardare l'umanità nelle sue innumerevoli sfaccettature e uno dei privilegi della professione di avvocato, spiega Carmine Di Paola, introducendo nella Sala Rossa del Castello di Barletta la sua ultima opera, Diritto di Difesa, 11 storie per 11 processi, scelti tra le centinaia che hanno visto protagonista il penalista barlettano nella sua quasi cinquantennale carriera. Vicende umane, prima che giudiziarie che lo hanno segnato intimamente, storie che aprono ad una riflessione sul ruolo di avvocato e sulle aspettative troppo spesso disattese riposte nella gestione della giustizia. Come avvocato credo che si attenda dall'amministrazione della giustizia risposte adeguate, risposte corrispondenti ai propri intimi convincimenti, che non necessariamente devono essere quelli giusti, purtuttavia la macchina della giustizia è andata progressivamente ingrippandosi, ci sono oggi difficoltà anche relazionali che prima non esistevano, l'atmosfera è cambiata, oggi si vive e meno serenamente nell'amministrazione della giustizia da parte dei giudici e nella gestione dei processi da parte nostra. Undici storie che hanno visto l'avvocato Di Paola essere coinvolto anche emotivamente, oltre che professionalmente, come la vicenda raccontata con grande trasporto di un amico entrato nel mirino della malavita locale. Nel momento io ho avuto il problema tutto mio, tutto intimo, di scegliere tra il rendere l'aiuto all'amico che implorava o il denunziare la vicenda che mi veniva raccontata all'autorità di polizia giudiziaria che su quella vicenda avrebbe potuto e dovuto intervenire. Questa è una situazione di grandissima difficoltà che ho vissuto, poi l'ho risolta in favore del mio amico perché veder piangere un uomo, veder tremare i polsi di un uomo e l'implorazione di quest'uomo grande e grosso che mi diceva dammi una mano aiutami perché sono vittima di estorsione, mi ha buttato giù in terra e mi ha fatto superare ogni ostacolo etico che pur sentivo fortemente in quel momento, in quella occasione. Nessun dubbio sulla qualità e la forza comunicativa di diritto di difesa per il professor Gino Datu, editore della Progedi. Sia diritto di difesa che i libri precedenti che il futuro sono delle singolari tappe di un percorso di scrittura professionale nel quale l'avvocato però fa un esperimento, cioè quello di fondere la sua cultura e il suo cuore giuridico con quelli che sono invece le istanze della fantasia. Un singolare percorso, il suo, che merita attenzione soprattutto editoriale. Di prossima pubblicazione un nuovo libro di Carmine Di Paola sulla vicenda giudiziaria che senza alcun dubbio ha avuto l'impatto più duro e profondo sulla sua carriera professionale, l'omicidio di Graziella Manzi. Quella è la vicenda che più mi pesa sulla coscienza perché, lo ribadisco per la bilionesima volta, io sono convinto che quattro dei ragazzi condannati all'ergastolo siano assolutamente innocenti.